Centinaia di migliaia di euro, questa la prima stima dei danni riportati dal comune di Pineto dopo le piogge torrenziali di qualche giorno fa. Chiesto subito lo stato di calamità naturale al governo regionale, ma nel frattempo è stato proprio l'amministrazione di Robert Verrocchio a dare risorse economiche per approntare gli interventi immediati, interventi che hanno interessato l'area della Pineta e soprattutto quella dell'entroterra, dove le strade sono letteralmente saltate per la potenza e l'abbondanza delle precipitazioni. La prima stima dei danni che abbiamo è quella fatta da lì a poche ore, il giorno dopo, di circa 700.000 euro. È vero che in quel momento non avevamo ancora contezza dei danni alla Pineta storica, che poi rappresenta un po' il nostro patrimonio più importante per il quale siamo davvero preoccupati. Adesso in queste ore stiamo liberando la parte dei pini che sono caduti con delle ditte e da un giorno o due siamo riusciti, grazie all'impegno H24 di tutti coloro che stanno lavorando, a ripristinare dei pontili in legno che erano lì sotto. E quindi crediamo che da qui alle prossimi giorni in settimana di riuscire a rimuovere del tutto i pericoli e rendere fruibile la Pineta. L'attesa ora riguarda i tempi della Regione Abruzzo che dovrà approvare la richiesta di fondi da parte del Comune e poi capire tempi burocratici per l'avvio di tutte le azioni di ripristino. Sicuramente abbiamo bisogno di risorse adesso e quindi è questo l'aiuto che stiamo chiedendo alla Regione Abruzzo e abbiamo deliberato lo stato di emergenza per cui adesso chiederemo che la Regione chieda anche lo stato di calamità e poi con la speranza che possa arrivare qualche risorsa. Stiamo intervenendo con le nostre in questo momento quindi per far fronte alle urgenze, alle emergenze però ovviamente questo è un primo momento per superare l'estate.